Sono 142 le persone coinvolte in un'operazione in corso a Cosenza condotta congiuntamente dai carabinieri, dalla polizia di stato e dalla guardia di finanza. A carico di un gruppo sono stati eseguiti arresti mentre ad altri sono state notificate misure cautelari di tipo diverso. I reati contestati alle persone coinvolte nell'operazione sono associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla modalità mafiosa ed altri reati sempre con modalità mafiose. Le cosche coinvolte nell'operazione sono il cosiddetto clan degli italiani, composto dai gruppi Rua, Patitucci e Lanzino e dagli abruzzese soprannominati Banana. Le misure cautelari in fase di esecuzione sono state emesse dal GIP distrettuale di Catanzaro su richiesta della DDA che ha coordinato l'attività investigativa. L'operazione che viene seguita oltre che a Cosenza in varie città italiane è condotta dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza, dal personale delle squadre mobili della questura di Cosenza e Catanzaro, dal servizio centrale operativo della polizia di stato e dal nucleo di polizia economico finanziaria di Cosenza, della guardia di finanza, insieme al GICO, del nucleo di polizia economico finanziaria di Catanzaro e allo SCICO di Roma.